Musica Rieccoci qua, la stagione riprende a settembre con Runners e Benessere, canale 194 di Toscana TV, ma anche ovviamente su runners.it, la televisione dedicata interamente al podismo e all'atletica leggera in Toscana e non solo. Si riprende oggi con una presentazione, qui siamo nel Parco delle Cascine, andremo al Parco delle Cascine di Firenze e andremo a farvi vedere quello che abbiamo in qualche modo presentato qualche giorno fa, abbiamo realizzato insieme alla nostra operatrice Linda Betti. Siamo andati a vedere un attimino quello che stanno facendo, quello che stanno realizzando per l'Eco Maratona del Chianti, che tornerà il prossimo 18 e soprattutto 19 di ottobre. Siamo in quel di Siena, precisamente a Castelnuovo Berardenga. Lì le informazioni le troverete sul sito che i ragazzi vi racconteranno, sia Federica, sia Cristian e sia Mauro. Saranno i tre ragazzi che racconteranno un po' di tutto, sia per la camminata, sia per il giro delle cantine, sia la novità del fit walking di quest'anno e poi la tradizionale appuntamento con l'11 km, 18 km e la 42 km delle tre gare competitive. Tutto nello splendido scenario delle colline senesi, un'occasione da non perdere. Con voi poi noi proseguiremo per tutte le domeniche, sempre l'appuntamento alle 22.20. Ovviamente chi si perderà un pezzo delle nostre puntate, potete rivederle su runners.it in ogni momento e sui nostri canali di Facebook Runner Toscana e ovviamente anche su YouTube. Oggi è domenica, qualcuno di voi è gareggiato in qualche mezza maratona sparsa per la Toscana, a Firenze c'erano anche altre manifestazioni. Vi ricordo che proprio sabato prossimo, sabato 27, noi saremo a fare riprese nella prima edizione della Siena-Bagnaia. Si parte nel sabato pomeriggio dal centro di Siena, precisamente in Piazza del Campo, per arrivare nella tenuta di Magnaia. 16 km la partenza è prevista alle ore 15, quindi prendete appuntamento, vedete un po', è una bella gara, quindi vi aspettiamola. Il giorno dopo, ricordo, domenica 28 a Firenze ritornerà forse la gara più importante e più bella della nostra regione, a meno come partecipazione il Corri la Vita che ritorna un'altra volta. E poi tante manifestazioni che sono in giro, che noi ovviamente seguiremo con la nostra trasmissione, soprattutto il giovedì sera, ricordo, Runners, Atletica e Podismo in Toscana, l'appuntamento tradizionale alle ore 22.20 su Toscana TV, canale 18. Bene, a questo punto non mi resta che lanciare il servizio sull'Ecomaratona dei Chianti, restate con noi, godetevi tutte queste informazioni e perché no, magari ci vediamo il 18-19 con voi proprio lì a Castelnuovo Berardenga nel Chianti, nel splendido scenario dell'Ecomaratona. Andiamo a sentirli. Ecomaratona dei Chianti, siamo il prossimo 18 e 19 di ottobre, sabato e domenica, tradizionali percorsi, tradizionali iniziative. Ce le facciamo spiegare anche meglio da Cristian Tozzi, uno dei responsabili dell'Ecomaratona, che ci parla degli eventi, soprattutto dell'evento del sabato, il giro delle cantine. Cristian, quest'anno come funzionerà? Ci sono delle novità per questa bellissima iniziativa che anche gli scorsi anni, pensiamo allo scorso anno, ha riscorso più di 700 partecipanti. Sì, anche quest'anno la nostra intenzione è chiudere a 700 partecipanti, come lo scorso anno, per non caricare il percorso di troppi atleti, troppe persone e snaturare la bellezza del paesaggio. Le novità ci sono tante, abbiamo cambiato percorso, un po' più corto, un po' più semplice alla portata veramente di tutti, per una gita per famiglie, gustando i sapori della cucina di Siena e della Toscana. Tutto è unaffiato da ottimo vino delle cantine. Le cantine sono le 6 dello scorso anno, più una nuova cantina che abbiamo inserito, l'azienda agricola La Lama. Ricordiamo quanti chilometri sono e come fare per iscriversi. È ovviamente, lo diciamo qui ma è sottinteso, è alla portata di tutti, grandi e piccini. Allora, i chilometri sono 8, veramente da fare passeggiando per la famiglia, veramente un evento per grandi e piccoli. Le iscrizioni si possono fare direttamente sul nostro sito inviando il bonifico. Il sabato poi avremo tante altre iniziative, i convegni e tante altre belle cose da presentare a Castronuovo Berardenga. Ce ne vuoi parlare un attimo Cristian? Sì, quest'anno stiamo organizzando, diciamo abbiamo organizzato un convegno per il sabato pomeriggio a cui parteciperà Libera che per la prima volta collabora con la nostra associazione e promoveranno le loro iniziative e si faranno conoscere. Per loro è un'ottima occasione, per noi è un vanto poter ospitare Libera. Insieme a Libera abbiamo organizzato un convegno a cui parteciperà sicuramente Massini e altri grandi atleti di livello nazionale. È tutto seguito dalla presentazione del percorso grazie alla collaborazione con Garmin che presenterà il percorso in maniera diversa e veramente entusiasmante. Le altre novità che avremo quest'anno Cristian sul Eco Maratona del Chianti le vogliamo provare a sintetizzare anche se ricordiamo, lo vedete in sovrimpressione, il sito internet dove trovate tutte le novità, tutte le cose, le conferme, la 42 km, la 18, la 11, la parte competitiva, il giro delle cantine che ci ha appena detto Cristian e poi anche il Nord Walking che quest'anno entra, diciamo così, con questa novità dei 10 km circa da fare insieme a tanti istruttori insieme a tante altre iniziative. Altre cose che possiamo dire? Visite nei paesaggi vicini, Siena, Terme o qualche altra cosa? Cristian? Quest'anno in collaborazione con l'ufficio turistico di Castellano Berardinga stiamo organizzando due gite, il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, che porteranno gli atleti e gli accompagnatori a Piavasciata a visitare un museo locale e successiva visita in cantina con il ritorno prima del pasta party del sabato sera. E domenica pomeriggio dopo la corsa dalle ore 16 è una visita guidata a Siena e al Duomo di Siena, occasione per visitare il pavimento del Duomo che è temporaneamente aperto. Una visita eccezionale, un posto bellissimo che invito tutti a vedere almeno una volta. Con Mauro Clarichetti siamo qua in uno dei posti più belli dove parte alcune gare dell'ecomaratona e poi c'è il passaggio sia della 18 e della 42. Dove siamo di preciso Mauro? Caro Fabio siamo esattamente a San Gusmè che equivalrebbe al trentesimo chilometro della 42 e più o meno al sesto chilometro della 18, che vuol dire che da qui mancherebbero ancora circa 11 chilometri per arrivare all'arrivo finale che è Castenova e Redenga. Qui ci sarà anche una delle novità del 2014, quale? Sì, abbiamo deciso di valorizzare molto l'evento Nord in Walking rispetto agli anni scorsi, ovvero sia da qui parte la 11 chilometri come dicevo alle 9 e mezza e insieme alla 11 chilometri competitiva partirà anche per il primo anno la Nord in Walking come evento dedicato, chiuso solo a chi si può iscrivere e quindi a chi rispetta il regolamento che troverete nel sito, in modo da dare un evento dedicato anche a loro. Parliamo dei percorsi complessivamente, sia dei 42 chilometri sia dei 18 chilometri, ovviamente il passeggiato delle cantine è più o meno rimasto le solite cose come gli scorsi anni. Le novità sul percorso, ci sarà qualcosa o più o meno i podisti troveranno gli stessi percorsi degli scorsi anni? I percorsi della 42, della 18 e della 11 rispetto allo scorso anno dovrebbero rimanere esattamente gli stessi, che abbiamo riscontrato un buon gradiente di successo, quindi direi che vanno bene quelli dello scorso anno. Ripeto solo che appunto per chi non è ancora venuto è un anello con partenza da Castelnuovo, arrivo a Castelnuovo di 42 chilometri, su questo anello partono a 18 chilometri dall'arrivo la gara di Villa Sesta, quindi la 18 chilometri e da qui che mancano 11 parte la gara competitiva di 11 chilometri. Ricordo il sito ecomaratonadelchianti.it che vedete ovviamente scritto nelle nostre immagini, Mauro sul sito trovano gli amici podisti e chi vorrà esserci, trovano tutti i dettagli del percorso? Sì, nel sito troverete tutti i dettagli possibili del percorso che insieme alla Garmin quest'anno come sponsor ci ha aiutato ancora di più a dettagliare meglio il percorso, sia come altimetria che come caratteristiche tecniche. Quindi per tutti i tecnici, diciamo, chi vuole veramente capire che tipo di percorso affronterà, sicuramente nel sito troverà tutte le spiegazioni. Specifico solo, il denominatore comune di queste tre manifestazioni è stato sin dall'inizio un percorso, la portata di tutti, facile, dove non esiste, diciamo, delle parti molto impegnative tecniche come trail, ma è un percorso relativamente facile con strade bianche e sentieri puliti. Per cui è un percorso che anche chi è abituato su strada la domenica a farle gare, direi che anche con scarpe normali di allenamento può affrontare benissimo questa gara. La rivista Correre, che conosce tutti, ha dedicato nel mese di settembre proprio un articolo all'ecomaratona del Chianti sui ristori. Quanti ristori troveranno i nostri amici podisti lungo il percorso? Allora, abbiamo cercato negli anni anche di capire le necessità, quindi vedere anche in base anche la temperatura. Comunque nella 42 sono circa 10 ristori, 5 nella 18 e 3 nella 11, che credo che siano sufficienti sia se ci fossero 25 gradi, come è capitato un anno, sia che siano 7-8 gradi di media. Perché un podista che ci sta ascoltando, magari seduto nel divano, dovrebbe scegliere di correre l'ecomaratona del Chianti? Perché rispetto alle maratone su strada o maratonine, se parliamo di confronto per la 18 e la 42, per una volta può venire magari senza avere l'assilo dei chilometri, del ritmo al chilometro, dell'orologio, ma nello stesso tempo può fare una gara importante per se stesso e divertirsi molto, con un paesaggio veramente impareggiabile. Ancora eco-maratona del Chianti, questa volta siamo con Federica Muzzi, una del comitato organizzatore, ci siamo messi a sedere in uno dei posti più belli dove passa l'ecomaratona e anche gli altri percorsi. Federica, dove siamo qui? Ciao a tutti, qui siamo all'interno della tenuta di Villarceno, siamo in cima alla fine del Viale dei Cipressi, questo famoso viale che poi tutto il mondo ci invidia e siamo circa al 35esimo chilometro. Gli atleti quando arrivano qua in cima trovano uno dei numerosi ristori che sono all'interno della manifestazione, della gara. Con te parliamo un attimino delle iscrizioni, vogliamo ricordare a chi ci segue, come funziona, dove è possibile fare le iscrizioni e ricordando anche le scadenze delle iscrizioni. Sì, vi ricordo che siamo agli ultimi giorni di iscrizioni agevolate che potete fare sul sito dell'ecomaratona del Chianti tramite TDS che gestisce ormai da anni le iscrizioni insieme a noi e tramite InterNow, quindi tramite la possibilità di pagamenti con carta di credito. Per cui visitate il sito, scaricate e seguite le istruzioni e affrettatevi a iscrivervi perché tra pochi giorni appunto finiscono le tariffe agevolate. Inoltre vi potete iscrivere in Toscana in vari negozi a Maxi Small a Pistoia, al Campione di Prato, a Maratonando di Viareggio, all'isolotto dello Sport a Firenze e anche a Grosseto con Running 42. A proposito di sponsor, partiamo proprio dal Campione, uno degli sponsor storici per voi insieme a che altri? Il Campione con Silvano che ci segue ormai da diversi anni e Diadora che è il nostro sponsor tecnico ormai da diversi anni. Quest'anno come parte tecnica abbiamo avuto il piacere di avere la collaborazione della Garmin che ci ha aiutato a visionare il percorso e addirittura in piazza nei giorni della manifestazione potreste trovare a prezzi agevolati i loro prodotti, i loro ultimi prodotti che verranno spiegati e verranno lanciati all'ecomaratona. Oltre a questi, quest'anno abbiamo il Consorzio del Tanti Classico che vi metterà a disposizione il suo vino per i pacchi gare, potrete appunto anche assaggiare e degustare questi vini sempre nei giorni della manifestazione. Oltre a loro, oltre a questi ringraziamo Polase che offre i sali minerali per i ristori e per il ristoro finale e poi quest'anno abbiamo l'ingresso della Chianti Banca che è il nostro partner per la prima volta in questa manifestazione. Bene Fede, abbiamo detto tante cose ma ricordiamo che anche in piazza ci saranno stand con prodotti locali, possibilità ovviamente con il negozio, con Diadora che venderà le scarpe insieme al negozio di campione e anche tanti prodotti locali, vogliamo ricordare il vino e poi tante altre iniziative e qualche sorpresa? Sì, ricordiamo per i prodotti locali il mercatale, quindi tutti i banchettini con vari assaggi non solo appunto di vino ma anche di prodotti alimentari, qualche sorpresa avremo delle nuove iniziative sabato e domenica che poi vi sveleremo quando verrete a trovarci appunto il 18 e il 19 di ottobre a Casanovo per Ardenga. Quindi visitate il sito, lo vogliamo ricordare ma lo vedete anche scritto nelle nostre qui immagini, ecomaratonadelchianti.it, lì troverete tutte le informazioni ovviamente via via che ci avviciniamo al 18 e al 19 di ottobre. Abbiamo sentito gli amici dell'ecomaratonadelchianti, con voi l'appuntamento è a domenica prossima, se vi siete persi qualche spezzone ricordo sempre runners.it, potete rivedere tutte le puntate e sul nostro canale di YouTube, ma seguiteci anche su Runners Toscana di Facebook. Grazie, la buonanotte o il buongiorno se ci seguite via internet o la buonasera se ci seguite sempre via internet. A tutti voi, grazie di averci seguito. L'arte della pasta fresca. Dal 1866 il pastificio Picchiotti di Vinci produce pasta fresca all'uovo, biologica e senza glutine, un ricco assortimento per ogni cliente, con materie prime selezionate, lavorate nei macchinari più all'avanguardia, con la cura artigianale di una volta. Pasta Picchiotti, la soluzione migliore per la vostra gara podistica. Gli unici che producono anche senza glutine. Pasta Picchiotti, la tua pasta! Grazie a tutti.